Sono stati messe di mora oggi nell'area verde di via Antonio Danoli, vicino alla scuola Lambruschini in zona Montà, 300 nuovi alberi. Una donazione fatta in occasione di Flomart che va ad incrementare il patrimonio verde del capoluogo Patavino. Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato l'assessore al verde Chiara Gallani e gli studenti della primaria Lambruschini, ai quali è anche stato insegnato come impiantare un albero. L'iniziativa si colloca all'interno degli eventi che si stanno svolgendo in questi giorni in città per la giornata nazionale degli alberi. L'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di riforestazione urbana dal nome Padova O2, che vedrà aumentare in diversi mesi il patrimonio dei nuovi alberi, fino a raggiungere un polmone verde grande quanto 12 campi da calcio di 10.000 unità. Sfis Marciane News, Padova.